Partita credibile, attenzione, questa è una partita credibile. Queste avevano già fatto due partite di campionato, pressing feroce, vanno uno contro uno, quindi c'è solamente l'esordio macchiato da tanti gol di Sommer, ma ragazzi non riesce a dare le marcature preventive, è arrivato ora, nelle uscite poi comunque lui si sa, non è un portiere che esce molto, bisogna dargli tempo, volevo solamente dire due o tre cose, perché poi sì, sono partite credibili, però oltre ad essere credibili ti lanciano anche dei segnali, con questo modulo Turam lo perdi, perché gioca troppo spalle alla porta e lo perdi, con il 3-5-2 Turam non è un attaccante puro, cioè deve imparare, deve migliorare, quindi non abbiamo tempo, ci serve un centro avanti ragazzi, Turam lo sapete, a me piace, ne parlo da due anni, ma Barella sappiamo tutti che è un grandissimo giocatore, tutti adoriamo Barellino, Barella davanti al portiere però gliela spara addosso, se in signo su un lancio di uno dei miei centrocampisti preferiti, Cristian Aslani, Aslani è un grande giocatore, a te pensi che De Zerbi sia grullo a volerti dare 30 milioni per Aslani, a te pensi che De Zerbi sia impazzito che il Brighton sia fuori di testa per volerti dare 30 milioni, Aslani è un grandissimo giocatore, non va assolutissimamente ceduto, fa un lancio di 30 metri, quello se la porta avanti con il tacco, la tocca quel poco, palla bagnata, pesante, la tocca quel pochino che gli va da dove vuole lui, boom è dentro ragazzi, questo è il calcio, se il signo deve rimanere all'Inter, se il signo deve rimanere all'Inter, tanti buchi difensivi, troppi, ma è una difesa comunque sì che si conosce, poi il ragazzo là, come si chiama, i batussoli, come si chiama, Bissec, ovviamente sto scherzando, è un verseggiativo, per renderlo presentabile quel ragazzo secondo me servirà un anno, non mi piace nella gestione palla, fa un rigore, non ci si può contare secondo me, almeno per i primi sei mesi, serve qualcosa anche in difesa, ho visto tanti svarioni, però l'Inter comunque ha tenuto botta a una squadra già in forma, come ho detto prima, che ha due giornate già di campionato alle spalle ragazzi, l'attacco male, ora però c'è anche una nota positiva, attenzione, e concludo il video e magari ci sentiamo più tardi ragazzi, tanto sono in vacanza come voi, o come quasi tutti di voi, ma anche chi non fosse in vacanza ragazzi, facciamo due chiacchiere di calcio perché siamo tutti in calo, l'Inter deve tornare a giocare, senza calcio siamo finiti, ora il ballerino ti ha fatto gol, ora se all'Inter, se all'Inter si mettano lì, fanno una cena e ragionano, che il ballerino ti ha fatto un gol in 90 minuti, cose da non sottovalutare, ora te il ballerino lo prendi, lo metti sotto olio, sotto aceto, mettilo dove ti pare, non lo fai giocare più, e lasci l'ultima immagine del ballerino che ha fatto 90 minuti e che ti ha fatto un gol, quindi l'ultimo ricordo del campo del ballerino deve essere questa partita qui e poi lo vinti, ciao Inter!